Allora, sono circa le 8 e venti... no, 7 e tre quarti di mattina, in partenza da Parigi per Tolosa Ci andiamo a prendere la Svezia, come vedete loro non hanno paura di niente Lui è nudo, non ne frega niente, lei infortunatamente non è niente Ma comunque sia, sono tutte e due, molto belli carichi, devo dire, noi invece siamo tutti belli pezzati What's your prediction for the game? 2-1 to Sweden 2-1 to Sweden, you believe, eh? That's why you are so confident, eh? What's your prediction? 5-0 to Sweden Sì, buonasera, ciao! La verità è che Antonio riuscirà ad agghiacciare Do you know about getting freezed? Do you know? Yeah, but getting freezed by Antonio Conte, do you know about that? She's leaving No, I have to leave too Sei agghiacciante? Agghiacciante, sei? Aghiacciante Aghiacciante, vedete, per la you will see Antonio Aghiacciale, Antonio, aghiacciale